salve sono il volontario del servizio civile universale sancinetto pietro del centro studi futura progetto franco basaglia con serie a tre bisacce sono qui per illustrare l'ordine di servizio del primo febbraio 2021 in questo ordine di servizio si parla degli argomenti trattati durante la diretta avvenuta il 4 febbraio 2021 alle ore 18 sulla pagina facebook di ena paica aic dove si è tenuto il convegno dal titolo fonti unione europea il nuovo settennato 2021-2027 i partecipanti alla diretta sono stati giuseppina sartoianni ossia presidente nazionale dell'associazione italiano coltivatori aic carmelo cortellaro segretario generale ena paica e sabina crosta segretaria area tecnica ena paica il tutto sotto il coordinamento di gerry ballo sulle tematiche delle opportunità fondi europei nel settennato 2021-2027 questi fondi rappresentano avere propria opportunità per tutti sia per enti pubblici per imprese parte civile e terzo settore ma che purtroppo non tiene conto pienamente delle difficoltà incrociate tra la domanda e le offerte per ottenere i fondi il nuovo settennato offre la possibilità di attingere a nuovi programmi europeo trasversali che offrono vantaggi in occasioni di crescita per ogni ambito a favore di ciò l'associazione italiana coltivatori che da anni opera nel settore della formazione dell'agricoltura e dell'artigianato si proietta verso l'europa anche grazie alla guida del dottor cortellaro che attraverso l'enapaica offre anche un servizio di consulenza per la progettazione europea oltre che a occuparsi da tempo di fondi strutturali regionali l'ambizione del dottor cortellaro è quella di facilità all'ingresso dei giovani all'interno di questo settore poco esplorato gli organi europei a causa degli effetti della pandemia accanto ai numerosi fondi già stanziati hanno approvato per sostenere e rilanciare economicamente gli stati membri il next generation unione europea covid-19 infatti seguito alla seguito della pandemia il budget notevolmente aumentato del nostro paese è destinato il nostro paese è destinato ad una grande una grande effetto di questi fondi importanti per lo sviluppo industriale e per quello occupazionale infatti diciamo trattandosi di fondi europei il convegno è stato messo in evidenza l'importanza della lingua straniera principalmente la lingua inglese e della conoscenza della terminologia per compilare le domande che in più delle volte sono in lingua straniera infatti in questi corsi per euro progettazione sono rivolti ai giovani e aziende per una maggiore conoscenza sia dei bandi che per per combinarli ricordiamo i ricapiti enapaica che sono segretario generale chiocciola enapaica punto ue area tecnica chiocciola enapaica punto ue enapaica chiocciola pek pek punto it e info chiocciola enapaica punto ue vi ricordi vi ricordo le nostre pagine social che sono cs futura tre bisacce franco basaglia facebook e instagram cs futura tre bisacce basaglia e inoltre vi ricordo di seguire tutte le news pubblicate dal centro studi futura del servizio civile